Sono Loretta del Papa, sono la segretaria provinciale del sindacato pensionale della CGL della provincia dell'Aquila dal 18 dicembre 2008 e così è cominciata per me questa avventura, è stata un'avventura che pensavo fosse tranquilla e invece è diventata molto poco tranquilla perché ad aprile, il 6 aprile del 2009 la nostra città ha avuto dei seri problemi, ma non solo la città, tutto è comprensorio, tanti comuni, un cratere sismico grande eccetera. Il terremoto è una guerra, la guerra ti impone di ricominciare e il terremoto ci è imposto di ricominciare, abbiamo ricominciato in una Tendopoli, abbiamo ricominciato in una stazione ferroviaria, abbiamo ricominciato girando con i camper per ritrovare i compagni, le compagne e lì ho capito che facevo parte di un grande sindacato, di un'organizzazione eccezionale che sapeva dare solidarietà e che sapeva interpretare i bisogni. Quando si distrugge tutto, dicevo prima come se ci fosse una guerra, una guerra non ti fa più ritrovare le cose care, non ti fa più ritrovare la tua quotidianità, non ti fa più ritrovare il tuo ambulatorio medico, il tuo bar preferito, la tua elicola, i tuoi passi cercano ma non trovano. La sedia che abbiamo lasciato dopo il terremoto è l'ultima di alcune sedi che abbiamo avuto nella città dell'Aquila. Che ti posso dire, nell'intervallo del lavoro, lavorando in centro a piedi uno veniva qui e vedeva quello che gli interessava. E così per i servizi, specialmente per i servizi, arrivare alla Fontana Luminosa con un autobus, anche per un vecchino, era molto ma molto più comodo. Anche perché ti godevi anche la città, vabbè poi io uscivo dal Cresa a due passi. E andavi a vedere i compagni a che stavano affacendo. Io tutte le sere venivo qua. In questo locale noi venivamo quasi tutti i giorni, sempre, mattina, pomeriggio, quando c'era da fare una bevuta, un panino, una chiacchierata. Gli uffici qua vicino. Gli uffici qua vicino, attraversavamo la strada e venivamo qua. Io sono la segretaria provinciale del Sinalato Pensionati, lui è segretario proprio della tua lega, lui è segretario tuo. Peppe conosceteci? Come no? Quello è amico. Eccola qua. La vota è arrivata nuova. No, no, 2016. È già arrivata nuova. Hai visto? Molti palazzi sono già ristrutturati. Questa è la fondazione della cassa di risparmio e stanno per farlo. Però adesso ci deve tornare un po' di vita. L'amato non arrenoui, l'amato non arrenoui.